Altri due cadaveri sono stati recuperati dai sommossatori della Guardia Costiera a largo delle coste di Lampedusa. È lì, a circa 60 metri di profondità, che il ROV della Guardia Costiera, un sottomarino a comando remoto, ha rintracciato l'imbarcazione naufragata due settimane fa a 6 miglia a sud dalla maggiore delle isole Pelage. Il tragico naufragio risale alla notte tra domenica 6 e lunedì 7 ottobre scorsi. Un barchino in condizioni pessime e in avaria, con a bordo una cinquantina di migranti, ad un certo punto si sarebbe ribaltato e affondato. Solo 22 i superstiti, che sfuggirono al mare, salvati dalla Guardia Costiera e dalla Guardia di Finanza. 13 i corpi senza vita recuperati nelle ore immediatamente successive al naufragio. Le ricerche sono però continuate. La scorsa settimana il ROV della Guardia Costiera ha rintracciato l'imbarcazione con attorno 12 cadaveri. Sono allora entrati in azione i sommozzatori che, giovedì scorso, avrebbero recuperato 6 salme, tra le quali anche quella di un bambino. Il giorno dopo venne riportato sulla terraferma il cadavere di un uomo, sabato appunto è toccato ad altri due corpi senza vita. Su 12 avvistate sarebbero dunque 9 le salme recuperate dai sommozzatori. Ne mancherebbero all'appello almeno altre tre, ma non si esclude che nelle vicinanze dell'imbarcazione affondata possano esserci altri cadaveri. Ieri il mare era mosso e non avrebbe consentito l'immersione dei sommozzatori. A coordinare le operazioni il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, titolare del fascicolo d'inchiesta sul naufragio aperto dalla Procura della Repubblica di Agrigento.